Ansia d'approccio. Cos'è e come superarla facilmente? Cos'è l'ansia d'approccio? È una sensazione negativa che si manifesta ogni volta che vogliamo approcciare una donna che non conosciamo. Può essere più o meno forte a seconda di una serie di fattori come la sicurezza in se stessi, l'umore del momento, la situazione, la ragazza che vogliamo approcciare, eccetera eccetera. I punti del corpo dove la sensazione si fa più intensa sono la pancia o il petto, dove si può sentire una forte tensione. È molto particolare notare come l'ansia dell'approccio ci sia solo quando dobbiamo conoscere donne sconosciute, approcciare ragazze che non conosciamo. Se invece la ragazza ci viene presentata, l'ansia si tramuta in qualcosa di diverso e molto più gestibile. Ora vediamo cos'è e come eliminarla facilmente, ma prima di continuare, hai già scaricato il report gratuito Conoscere Donne? Per scaricarlo puoi cliccare qui al lato, trovi il link anche in descrizione. Mi raccomando, è fondamentale che tu lo scarichi, troverai moltissimi spunti utili sul Conoscere Donne. Procediamo. Cos'è? Ogni sensazione ha una sua ragione di esistere. Abbiamo paura dell'altezza, perché moriremmo se ci buttassimo giù da un dirupo. Siamo schifati dal cibo andato a male, così non lo mangiamo e rimaniamo in salute. Siamo attratti da una donna perché in questo modo la natura garantisce la continuazione della specie. Viene quindi da chiedersi, da dove deriva l'ansia d'approccio? Se approccio una donna, non metto di certo a repentaglio la mia vita. Questo è vero, ma il punto è che il nostro cervello è ancora strutturato per sopravvivere nel mondo preistorico. Il nostro cervello non si è evoluto come la cultura e la tecnologia. Una volta gli uomini erano organizzati in tribù e quando un uomo approcciava una donna che non conosceva, molto probabilmente lei poteva essere di una tribù diversa o comunque poteva essere la compagna di un uomo che non conosceva. L'uomo che approcciava metteva quindi a rischio la sua vita. La tribù poteva essere gelosa delle sue donne e difenderle con la vita. L'uomo poteva quindi rischiare di essere preso e ucciso in pochi istanti da un gruppo di altri uomini. All'epoca non c'erano certo i tribunali. L'ansia d'approccio è quindi un meccanismo di autodifesa che la natura ci ha donato per sopravvivere, ma questo non vuol dire certo che non possa essere superata. Superare, non eliminare. Al termine eliminare preferisco superare, preferisco dire superare l'ansia di approcciare. Perché? È una mia semplice segamentare linguistica? Assolutamente no! È invece un modo di pensare molto importante. Se infatti nella tua testa vuoi eliminare l'ansia, succedono due cose. Primo, l'ansia si trasforma in un nemico e ogni volta che la senti, ti dici perché ho ancora questo maledetto timore e ti arrabbi con te stesso perché pensavi se ne fossi andato. E invece è ancora lì. Questo odiare l'ansia si tramuta in un secondo livello di emozioni negative, l'odio verso una parte di te. Come avrai già capito, non è la strada giusta. Un secondo motivo è che l'ansia in realtà non la elimini completamente, ma la rendi prima molto molto piccola e poi la usi per darti energia. Come una persona che fa sport estremi, la prima volta che ci prova è spaventato a morte, ma man mano che ci riprova, prende confidenza, il timore non se ne va, ma si riduce e viene trasformato e ogni volta che viene superato lo sportivo ha uno shot di adrenalina. Ecco, è la stessa cosa per approcciare, con un po' meno adrenalina che lanciarsi da una montagna con tuta alare. Questi sono i due motivi per cui dovresti iniziare a usare la parola superare invece che eliminare. Come superare l'ansia d'approccio? Per superare l'ansia d'approccio ci sono due metodi principali. Uno è assolutamente necessario, l'altro è optional e può dare una gran mano. I due metodi sono esterno e interno. Il metodo esterno è ciò che fai nel mondo, nella vita, quindi l'agire e impegnarsi. Questo è assolutamente necessario, non ci si scampa. Il metodo interno è invece quello che agisce direttamente sul tuo timore di andare ad approcciare e sono alcuni esercizi che trovi in 100% inner game. Il metodo interno non è assolutamente obbligatorio, ma può darti veramente una mano enorme soprattutto se sei un po' bloccato. Esercizi per superare l'ansia. Parliamo del metodo esterno. Alla base c'è un meccanismo chiamato desensibilizzazione progressiva. La desensibilizzazione progressiva si basa sul meccanismo per cui se abbiamo una certa reazione emotiva quando ci esponiamo a una certa cosa, se continuiamo a esporci questa nostra emozione si affievolisce. Pensa ad esempio alla prima volta che hai guidato un'auto, o che da piccolo sei stato interrogato, o comunque che hai fatto qualche cosa che ti dava timore. Con il tempo, facendo questa cosa molte volte, il timore si è affievolito e in molti casi è sparito. Bene, questo stesso meccanismo lo possiamo usare per diminuire l'ansia d'approccio, facendo un piccolo passo alla volta. Proprio così, invece di sentirti scemo perché non riesci ad approcciare quella donna bellissima che vedi in discoteca, abbassa il livello di difficoltà e scegli qualcosa che ti dia meno timore. Per esempio, se parti proprio dalla base, potresti andare per strada e chiedi l'ora a dieci uomini, fatto questo, chiedi l'ora a dieci signore e anziane, fatto questo, chiedi l'ora a dieci ragazze e poi saluta, fatto questo, chiedi l'ora a dieci ragazze, fai un complimento veloce su un capo di abbigliamento che portano e poi saluta. Man mano alzi il livello di difficoltà, abbassando progressivamente la tua ansia di approcciare. Tutto chiaro? Perfetto! Allora in bocca al lupo! Prima di scappare, hai già scaricato il report gratuito Conoscere Donne? Per scaricarlo puoi cliccare qui a lato, trovi il link anche in descrizione. Mi raccomando, è fondamentale che tu lo scarichi, troverai moltissimi spunti utili sul Conoscere Donne. Allora in bocca al lupo! Allora in bocca al lupo!